Cambiamento di proprietà della discarica di Vespia Sì, corrisponde a verità. Da pochi giorni la proprietà di Agregarden Ambiente è passata al 100% di un'altra società, una società privata, dimensione ambiente, società che già opera nel mondo dei rifiuti e che quindi ha acquistato questa società, la discarica di Vespia e anche quella di Rivarolo come badò ulteriore, credo con piena consapevolezza. L'acquisto è stato preceduto da verifiche di carattere ambientale, economiche, analisi effettuate, quindi credo proprio che l'acquisto sia avvenuto con responsabilità e con la consapevolezza, come dicevo prima, degli investimenti e le opere saranno necessarie per mettere in sicurezza la discarica. Quali sono le prime cose che verranno fatte? Le stiamo decidendo, certamente l'intenzione è quella di saturare le volumetrie ancora esistenti, versante per versante, per arrivare a una rapida chiusura di un versante alla volta. Le emergenze che abbiamo sono quelle di una corretta gestione del percolato, migliore di quella attuale, non va in Malesi naturalmente il percolato, però va gestito meglio e anche per quanto riguarda la rete del biogas. Il biogas prodotto dalla discarica è al 50% metano e quindi è un gas anche che può creare problemi di carattere ambientale e anche di sicurezza, va intercettato correttamente e invece di sistemare quello che c'è rifaremo tutto nuovo, ha più senso da un punto di vista ambientale ed anche economico. C'è un ampliamento della discarica in atto, autorizzata e una discussione riguardava la strada per Vidracco, quindi la viabilità, il fatto che è stretta, che c'è un ponticello per cui per i camion potrebbe essere pericoloso. Sì, questo è un problema vero che abbiamo riscontrato, non abbiamo intenzione di usare quella strada, al momento non l'abbiamo presa in considerazione, abbiamo valutato e stiamo ragionando con topografi e professionisti modalità di accesso a quelle aree partendo sempre dall'interno della discarica. Il progetto di ampliamento già approvato per 83 mila metri cubi prevede la realizzazione di alcune terre armate che interferiscono con la viabilità e quindi è necessario rettificare quella interna o passare dall'esterno. Al momento non è nostra intenzione passare dall'esterno, stiamo facendo gli approfondimenti per modificare la viabilità internamente all'area. E per quanto concerne lo sversamento del percolato nelle foneture? Beh, questo deve essere intanto autorizzato, deve essere autorizzato dalla città metropolitana, ha sentito il parere tecnico di ARPA e di SMAT. Il percolato, se le caratteristiche potrebbero essere smaltito in un pianto di depurazione di acqua e rifle urbane, credo che sia giusto che possa essere smaltito in questo modo come fanno tutte le altre aziende. Non è che il percolato, perché viene prodotto dai rifiuti, sia necessariamente più pericoloso da quello che fanno altre aziende industriali. Deve essere all'interno di parametri di carattere chimico per cui sia compatibile. Dalle analisi che abbiamo questo sembra possibile, le abbiamo inviate in via informale e poi faremo una istanza ufficiale. Tutte queste modifiche che sembrano semplici e rapidi, in realtà sono modifiche dell'AIA e richiedono tempi per essere autorizzate. E quindi da quello che uno pensa di fare, nel caso del percolato, quello che magari realizzerà passeranno 3-4 mesi. Verrà effettuato un incontro con i comitati? Non ci nasconderemo nessuno. Incontreremo la popolazione, incontreremo i comitati, ovviamente se questo sarà organizzato, promosso o in qualche modo accettato da parte dell'amministratore comunale. Siamo un soggetto giuridico, ci interfacciamo con i comuni di Castellamonte, con la città metropolitana, con l'ARPA, con lo Spresal, anche con i comitati attraverso, ad esempio, il comune. Questo sì. Quali tipi di rifiuti vengono versati con discarichi? Beh, fondamentalmente sono tutti rifiuti non pericolosi, quindi che possono entrare in una discarica di questo tipo. Sono rifiuti speciali, nel senso che sono rifiuti prodotti non da utenze urbane, ma da ditte private, quindi da attività terza, attività commerciale. Quindi dai scarti industriali? Esattamente, sì. Tutto ciò che non può più essere avviato, non può prendere strade diverse, se non quella appunto del trattamento per interramento, come in questo caso, oppure laddove è previsto un incenerimento, però sono materiali non più recuperabili. Quindi non rifiuti urbani come qualcuno aveva ventilato? No, assolutamente. Questa discarica ormai è uscita dalla gestione del rifiuto urbano. I rifiuti urbani ormai vengono intercettati e inviati tutti all'inceneritore, quindi di fatto su questa discarica non riceverà più rifiuto urbano, che a nostro avviso è quello ancora più problematico da gestire, perché può contenere tutta una serie di altri rifiuti mischiati insieme. Quindi teoricamente questi sono rifiuti speciali, ma hanno la possibilità di essere controllati, sono più omogenei, più continui e quindi di fatto è a nostro avviso anche più sicuro utilizzare questa tipologia. Quanti sono i camion al giorno? Allora, noi attualmente siamo in una fase iniziale in cui di fatto dobbiamo fare parecchi lavori di ripristino, messi in sicurezza e quindi stiamo cercando di limitarli il più possibile. Attualmente sono 6, 7, talvolta 8 carichi al giorno, non contiamo di salire ulteriormente, almeno per il prossimo mese sicuramente rimarrà così. Laddove poi si riveli possibile aumentarli, leggermente lo faremo, ma chiaramente in questa fase non abbiamo previsto incrementi significativi. Una cosa molto importante è l'azione di monitoraggio della discarica. Certamente, più che importante è Basilara perché è un requisito prescritto nell'autorizzazione integrata ambientale di cui Agrigarde dell'Ambiente è a capo. I monitoraggi ambientali sono stati eseguiti fino ad oggi, negli ultimi due anni, con la consueta cadenza. Sono stati trasmessi agli organi proposti, quindi Città Metropolitana di Torino, ARPA e Comune di Castellamonte con le rispettive relazioni ordinarie prescritte nell'autorizzativo e si spera di continuare così in maniera anche più efficiente con degli monitoraggi magari aggiuntivi in relazione al biogas, eventuali fughe di biogas dalla discarica che fino adesso non si sono verificate. Quali sono le tipologie di monitoraggio? Le sorgenti che si vanno a monitorare nella discarica sono le acque divise in acque sotterranee, quindi di falda, acque meteoriche di ruscellamento e le acque superficiali. Sono analisi che si conducono trimestralmente e vengono trasmesse quadrimestralmente agli enti preposti. Successivamente vengono eseguite una volta ogni sei mesi le analisi del biogas, il biogas immesso in torcia. Qui ricordiamo che non esiste la fase di recupero in questo impianto, ma esiste solo la fase di termodistruzione, pertanto andiamo a valutare la tipologia, il rapporto qualitativo e quantitativo di biogas introdotto in torcia. Poi c'è il monitoraggio dell'aria, il monitoraggio del biogas estratto da ciascun pozzo di estrazione, che è un monitoraggio mensile eseguito da operatori interni di aggregare dell'ambiente e operatori esterni certificati che vengono a fare un servizio di consulenza mensile.